salve a tutti ragazzi sono tornato mi chiamo gabrie costa guardate sta scena questi tirano le lance alla maschera ma non succede niente quando questo si toglie la maschera grossa verde si mette quest'altra poi parte il fulmine e gli altri cadono a terra e si parte con il secondo livello di meta slag 5 ricordatevi che noi stiamo parlando di meta slag anthology e questo meta slag anthology stiamo facendo meta slag 5 questa ragazza con lo zaino grigio è madocca madocca è difficile ricordarsi i nomi di tutti i personaggi di meta slag ma andiamo avanti mi scoccia premere ripetutamente quadrato per sparare meno male che io ho messo il fuoco automatico così posso tenere premuto il tasto quadrato poi c'è da affrontare tutte queste macchine ora bisogna scendere con l'ascensore ricordatevi che voi siete i miei follower ecco il bel fucile a pompa lo shotgun non so chi sono esti esserini arancioni che ci danno fastidio mentre scendiamo con l'ascensore non so chi sono esti esserini arancioni che ci danno fastidio mentre scendiamo con l'ascensore bene siamo scesi ora possiamo proseguire e andare avanti questi qua hanno del bazooka si ritorna con la mitragliatrice pesante a dima sciglia ora bisogna stare attenti a questi miei amici che scendono con i veicoli e che ci spara benissimo ok 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 non ci sto capendo niente in questo livello ragazzi insomma vogliamo andare avanti sì o no o si perde tempo a combattere è così questo Joe Meta Slug uno sparatutto a scorrimento la recensione sta durando parecchio devo far veloce perché è lungo questo video quando il video è lungo diventa noioso qualcosa mi dice che presto saliremo sul nostro veicolo saliremo sul nostro aereo e andremo ad affrontare il boss di questo secondo livello di Meta Slug 5 visto che stiamo parlando di Meta Slug Anthology e affronteremo Shooting Ray questo Shooting Ray è un gigantesco aereo non so se ce la faremo a distruggerlo non sarà facile quindi stagione e abbiamo perso il nostro aereo dai che ci siamo quasi voglio vincere oh vittoria finalmente abbiamo distrutto il gigantesco aereo shooting ray bene io vi devo salutare spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace e commentate